Ingredienti Dosi per 4 persone 380 grammi di spaghetti 1 spicchio d'aglio 1 ciuffo di prezzemolo 2 cucchiai di uova di lompo 4 cucchiai d'olio Limone Sale Peppe nero Preparazione Lessare molto al dente gli spaghetti Tritare finemente prezzemolo e aglio Scaldare l'olio Unire gli spaghetti Il trito di prezzemolo e aglio e le uova di lompo Amalgamare bene gli ingredienti e togliere dal fuoco Spolverizzare con pepe nero macinato e spruzzare con poche gocce di limone Il piatto è pronto Buon appetito